Pronti? Pronti? Voodoo, stamp! Siamo bloccati! Hai visibilità su quel cecchino? Un momento! Questa è la tua linea di tiro. Butta giù l'edificio. Riducilo in macerie. Mako, segnate il bersaglio. Fuoco! Tre secondi all'impatto. Prendete! Prendete! Via! Prendete! Noi entriamo! Di qua! Mako, di qua! 1-6 qui, 1-4. Siamo al punto di raccolta alfa. Dateci lo stato. Passo. 5-9, 1-4. Passo! Ricevuto. Resistiamo. Giù, stampa! Vedo che possiamo passare di qua. Ma che movimento? No, li abbiamo arrostiti. Che succede? Da questa parte, qua giù! Ok, ci siamo. Per punto di raccoglione. Non si c'eva solo. Che succede, basta di raccoglione. Non si non si è. Ok, non si è. No! No, non si è. Non si è. Non si è. No. Non si è. 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 1416, il porto è chiaro, mandiamo il bot, basso. A difesa! Eccoli, Sam. Il bot è alle sue 604. Rissevuto! Senta la copertura, attenzione la copertura! Un rafficci! Un rafficci! Un rafficci! Un rafficci! Un rafficci! Un rafficci! Dobbiamo muoverci. Via! Roger! 14 aspettate! Arriviamo! Dai, Sam. Qui dentro! 16, qui 14. Movimenti nel palazzo dall'altro lato. Ricevuto! Ok, movimenti. Tango all'interno. Un rafficci! Un rafficci! La porta! Ottimo! Stato! Direzione all'altra parte della strada! Secondo piano! Il rafficci! попытava rafficci! Cri av minerali esquerde за leppi! Scherzè! Fino lì che! Senta! Dieannave! L'hai fattuto? Terra! Finestra! Abbattimi! Tanto a sinistra! 20 metri! Stampa! Gruppe sottotiro! Ahtoni! Sprech! Hoop! Compым. Pat Мосci forgiving. Granata! Ho chiamato i tiri! Attenti a sparare! Occhi sull'edificio! Sono ridendo! Stampp, sinistra! Secondo piano! A sinistra, su! R.P.G! Stampp, volete! R.P.G! Cima le scale! Stampp, R.P.G! Stampp, sinistra! E a terra! Stampp! 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 Ok, ok. Ok, gotcha. Preso! Niente bersagli. Via! Oh, ma sono ovunque. Facciamoli fuori. Non sanno di noi, ma non per molto. Avanti rapidi e precisi. Sono alla Torre delle Parabole. Belle ossa giù. Un altro stesso misure. In testa. Ok, vicino al cartello. Ore 12. Un po' a sinistra. Stanno uscendo. Sotto la Torre. Siamo bersagliati. Ci ha visti. Dai, Stamp. Fallo nero. Siamo sotto giro. Fallo secco. Che c'è? Stamp, fai fuori per le mezzeseghe con gli AK. E' a terra. Un po' più su e c'entri la testa, Stamp. Passo 1-6. RPG eliminato. Hai via libera. Confermiamoci. Sono dei fuggitivi armati di AK. Ricevuto. Bersaglio confermato. Si spara. Ehi! Rileviamo del movimento in quell'hotel. RPG, torna alla Torre, Stamp. In cima, al centro. Merda! Siamo sotto tiro. Stamp, finesse sull'RFG. Andiamo, andiamo. Ci stanno colpendo. Scappa, prendilo. Stampa, aiuto, ma su. Chi su? Missione annullata. Stiamo subendo troppi danni.